Ci troviamo di fronte alla rampa di lancio di SpaceX al Kennedy Space Center in Florida. Da qui tra poche ore decollerà Euclid, il telescopio dell'Agenzia Spaziale Europea. Decollerà in testa un razzo Falcon 9 che gli darà la spinta necessaria per arrivare in orbita e poi a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra. Da lì Euclid scruterà il cosmo e l'universo profondi, facendo misure e fotografando miliardi di galassie per avere le misure necessarie a capire e comprendere meglio la natura dell'energia e della materia oscura che sappiamo comporre il 95% dell'universo.